Ok, sono in REC. Se notate ho dovuto togliere, ho dovuto cancellare il video di ieri, l'ho dovuto mettere privato, era un video dove Ciccio giocava con il mio account di Clash Royale, un video secondo me bellissimo, super scorrevole, infatti aveva fatto tipo 300k in un giorno, super apprezzato, complimenti nei commenti, era veramente un contenuto fighissimo. E ovviamente come tutte le cose belle devono finire sempre sul più bello. Quindi che è successo? Stamattina mi chiama Ciccio dicendomi che la Supercell l'aveva contattato intimandogli di cancellare appunto questo video perché avevamo violato delle norme della community di Supercell. E che se io non avessi tolto il video avrei rischiato lo strike eccetera. Ora, andiamo per ordine. In questo video appunto come vi dicevo Ciccio giocava dal mio account di Clash non per livellare l'account ma più per intanto creare un contenuto perché non sono un giocatore professionista di Clash e non mi interessa. Più che altro era appunto per creare un contenuto di intrattenimento diverso, nuovo e devo dire che era molto azzeccata l'idea, vi stava piacendo veramente tanto perché era un video sicuramente particolare, sicuramente diverso dai precedenti. Quindi è entrato con i miei dati, è entrato nel mio account, ha giocato un tot di partite, mi spiegava un attimino le meccaniche, come muovermi e come appunto utilizzare al meglio il deck che lui stesso mi aveva consigliato per scalare in ladder. Video top, è andato benissimo, è piaciuto tantissimo. Lo mettiamo online, tutto bello, tutto felice. Evidentemente quello che non andava bene a Supercell, e qui riporto solamente i fatti come sono andati, quindi questo non è un video per fare polemica, è un video per spiegarvi quello che è successo. A Supercell non andava bene che Ciccio entrasse, cioè proprio l'azione di entrare nel mio account di Clash Royale. Gli abbiamo spiegato appunto che era fatto a scopo di intrattenimento, non aveva assolutamente secondi fini se non quello, ma addirittura non solo mi hanno detto di togliere il video perché altrimenti avrei rischiato uno strec al canale, ma faranno anche degli accertamenti sul mio account di Clash. Perché pensano che io mi faccia boostare l'account da qualcun altro, spoiler, non mi interessa un cazzo perché non sono un giocatore professionista di Clash, però appunto ho dovuto togliere questo video. La cosa mi dispiace perché intanto nonostante abbiamo esternato a Supercell le nostre buone intenzioni e quindi quelle di semplicemente creare un contenuto bello per i nostri fan, quindi creare un passaggio di community, una bella interazione eccetera, lo abbiano visto più come una cosa negativa. Capisco che questa cosa ha violato le loro politiche, però onestamente mi sento di aver tra virgolette buttato il lavoro di una giornata, sia il mio lavoro, il lavoro del montatore, il lavoro di Sciccio, insomma c'è un po' di rosicamento dietro. E in più, cioè, onestamente il video stava andando veramente a gonfievere, cioè stava andando veramente benissimo, ovviamente quando mi capitano queste cose fortunelle, quando sono in vacanza il video è andato bene e quant'altro. Quindi sì, sono un po' con l'amore in bocca perché non pensavo succedesse tutto ciò, io proprio sconoscevo questa politica di Supercell, ma quello che vi consiglio è di non fare lo stesso mio errore. Quindi questo video vuole anche essere un video per dirvi, ragazzi, attenzione perché Supercell non vuole che giochiate con l'account di Terzi. Quindi era appunto un video per aggiornarvi su quello che è successo, spiegarvi appunto che il video di ieri purtroppo non lo troverete più per questo motivo. Mi dispiace perché era davvero figo, c'è anche il montatore, quando lo montava mi diceva, già sta venendo fighissimo, super scorrevole, molto interessante, anche io me lo sto guardando, anche se non mi interessa Clash. Quindi, boh, è un po' una roba che mi lascia con l'amore in bocca, specialmente perché sembra quasi che ti debbano per forza andare contro quando cerchi di fare qualcosa che in teoria dovrebbe giovare al gioco, no? Cioè se tu fai video sul gioco, giova sia a te che fai il contenuto, sia al gioco che viene, tra virgolette, pubblicizzato. Però vabbè, raga, è andata così, io sono in vacanza, mi approfitto per dirvi che appunto questo fine settimana sarò in vacanza, i video ci saranno, questo piccolo video aggiornamento mi dispiace averlo fatto, ma era giusto che io mi aggiornassi su quello che è successo. Spero appunto che non ricapiti più, non ci siano altri problemi. E nulla, fatemi sapere la vostra, non fate il nostro stesso errore, mi raccomando ragazzi, state attenti quando giocate a Clash Royale, fa ridere ma ve lo devo dire, state attenti quando giocate a Clash Royale. Buone vacanze a me che sono iniziate alla stragrande. Non finiranno qua i video comunque su Clash, quindi tranquilli, ci saranno altri video, poi con Ciccia ci organizzeremo e staremo più attenti. Buone vacanze a tutti, ma specialmente a me. Buone vacanze a tutti.